Una posizione preconcetta, strumentale e manipolatoria della vicenda. Parole dure contro la dirigente del liceo Petrarca, quelle dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi, in una nota pubblicata stamattina con la quale il Comune punta a chiudere la polemica sulla questione della mostra sulle leggi razziali del 38 e sulle espulsioni dalle scuole che ne derivarono. Nella nota Rossi chiede alla dirigente scolastica se sia in possesso di atti ufficiali del Comune che negassero la sala Veruda o contestassero il manifesto e cita la delibera del 29 marzo della Giunta che calendarizza la mostra nella sala Veruda dal 13 al 21 settembre. La sala è a loro totale disposizione, scrive l'assessore. Si dice sconcertata la dirigente del liceo Petrarca, Cesira Militello, per i contenuti definiti da lei infondati. La dirigente ha spiegato che dopo la delibera l'amministrazione comunale ha esplicitamente richiesto le modifiche alla locandina nel corso dell'incontro tra la professoressa Sabrina Benussi, coordinatrice del progetto di ricerca, e l'assessore Rossi. Inoltre queste richieste sarebbero state chiaramente espresse alla dirigente anche dall'assessore all'educazione Brandi e poste come condizione per l'allestimento della mostra e il conseguente finanziamento del materiale di promozione. La preside racconta di aver richiesto indicazioni precise sulle modifiche da apportare ma di non aver mai ricevuto una risposta ufficiale, fatto che ha portato la scuola a sospendere l'allestimento della mostra. La tanto discussa a locandina intanto oggi è stata pubblicata su una pagina a pagamento sul quotidiano Il Piccolo, su iniziativa di un gruppo di cittadini che ha in questo modo voluto premiare il lavoro dei ragazzi del Petrarca.